La vaccinazione è da due secoli l'arma più efficace per sconfiggere le malattie infettive. Ora la pandemia da Covid-19 ha trasformato la vaccinazione da strumento di prevenzione delle malattie infettive somministrato nei primi anni di vita a presidio da utilizzare su tutta la popolazione mondiale e in relazione all'andamento dell'infezione probabilmente in via continuativa. I professionisti, data la loro posizione di rilievo nel panorama del mondo del lavoro, devono essere da esempio per garantire la sicurezza loro stessi, ai loro dipendenti e ai numerosissimi clienti che frequentano i loro studi professionali. Sottoporce la vaccinazione e proporla ai collaboratori diventa un imperativo fondamentale per la riuscita delle più grandi azioni di sanità pubblica che la storia abbia mai visto. Se raggiungeremo l'80% di copertura di tutta la popolazione leggibile, otterremo il risultato di garantire il non ricircolo del virus e quindi bloccaremo la diffusione dell'infezione e questo si può raggiungere se ognuno di noi si vaccina e propone la vaccinazione come gesto di civiltà e di rispetto verso l'altro e verso la comunità. È la prima volta nella storia dell'umanità che il mondo intero si impegna in un'azione di sanità pubblica a salvaguardia della sua stessa sopravvivenza e in questo caso i professionisti ne vogliono dare dimostrazione della loro importanza diventando parte attiva e di supporto di questo impegno che permetterà di raggiungere il doppio risultato da un lato di garantire la salute delle nostre popolazioni e dall'altro anche della nostra economia. Grazie